E quindi visto che ci sarà la Formula E che io dico onestamente non conosco, sì l'ho seguita ma in maniera molto superficiale, non so anche tu credo Riccardo che non è che sia molto... Diciamo che perché ne vogliamo parlare soprattutto questa settimana? Perché correranno a Roma, un cittadino di Roma nella zona dell'Eur e quindi è un evento che insomma ci interessa abbastanza da vicino. Infatti visto che io né te nel nostro Stig ben o male siamo abbastanza preparati sull'argomento abbiamo deciso di portare un ospite che ci può un attimo raccontare e spiegare un pochino più nel dettaglio di cosa si tratta la Formula E, nello specifico la gara di Roma. Per cui intanto darei benvenuto a Daniele Gregori che è il coordinatore dei commissari di percorso della Formula E. Ciao ragazzi, ben trovati a voi. Ciao Daniele, ciao Daniele. E quindi niente Daniele, visto che noi conosciamo bene l'argomento se non quello che riusciamo a vedere dalla TV, raccontaci un attimino che cos'è la Formula E, come si sviluppa insomma il Gran Premio, rispetto, ecco quello che la gente vorrebbe magari sapere le differenze sostanziali tra un Gran Premio di Formula 1 e un Gran Premio della Formula E. Come prima cosa, la più banale è che la Formula E è una competizione per macchine completamente elettriche, mentre per quanto riguarda la Formula 1, come sai, è un motore endotermico. Quindi alla fine questa è la caratteristica principale. E poi diciamo che le macchine di Formula E sono macchine che io chiamo da Batman, perché se tu le guardi bene sembra che esce fuori da Batman e Robin. Sono ruote coperte e come ti dicevo sono tutte elettriche, essendo tutte elettriche non perdono liquidi e non c'è, a parte i rarissimi casi, non c'è nessun incendio che si può partire insomma da queste macchine. E per quanto riguarda la sicurezza comunque è già un passo avanti rispetto insomma. Intanto salutiamo anche il gruppo degli Inz ragazzi. Ah sì sì, buongiorno, buongiorno agli Inz. Tra l'altro Nike 90 ci diceva solo grandi ospiti, quindi subito una grande accoglienza per il nostro Daniele che è il nostro primo ospite insomma qui a Motoriro. Solo grandi ospiti. Solo grandi ospiti. Solo grandi ospiti. Sono grandi ospiti. Comunque... Dicevamo. Sì, dicevamo. Un'altra cosa fondamentale da per me lei è che comunque dal lustro, anche se ovviamente io vengo dai due tempi, dai quattro tempi, dalla benzina, dal grasso che si sporcava sulle mani. Dai motori. Dai motori. Dai motori. Dai motori veri e propri. Veri e propri, sì. Diciamo l'elettrico fa parte di una particolarità dell'automobilismo e anche del motociclismo, in questo caso appunto dell'automobilismo. Fa parte di quel 10-15% di macchine che adesso si possono tranquillamente vedere in giro per Roma. La Tesla, per esempio, me ne viene una che è completamente elettrica. Però è ovvio che insomma tra un motore endotermico e uno termico preferisco sicuramente un motore a scoppio e in tranquillità. Però una cosa che mi preme dirlo è che queste macchine sono più belle da vederle dal vivo rispetto a vederle in televisione. E' vero, in televisione non rendono tantissimo. No, in televisione non rendono e sembrano, che ne so, una corsa dei folletti, di folletti. Sembrano scarne, non so, mi sembra che manchi la città da sotto. Mi sembra che manchi il motore. Comunque il nostro Stig sta intervenendo. Sì, 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 sono comunque macchine che vanno totalmente contro i principi che avevo elencato nella scorsa... 20.000 giri... Le macchine, sia un po' per tutto. Però devo dire, devo dare anche un punto a favore rispetto alla motore, rispetto alla Formula 1. Che il motore si chiama... In Formula E? In Formula E le macchine chiaramente penso che hanno lo stesso motore elettrico, giusto? E quindi, devo dire che durante il campionato, ogni gara veramente può vincere chi non ti aspetti. Secondo me è molto più livellato rispetto a una Formula 1. Quindi, ecco, lo spettacolo lì sembra quasi di andare a giocare una schedina per vedere... L'altra cosa particolare è che i circuiti sono tutti cittadini... Esatto, era la domanda che volevo farti, esatto, perché... Sono tutti cittadini, come si corre a Parigi, proprio nelle strade di Parigi, si corre a Roma, si corre a Londra... Sono tutti circuiti dove il giorno prima ci andava l'imprenditore, piuttosto che l'ingegnere, piuttosto che l'operaglio a fare una passeggiata. E altra cosa, adesso non noi perché siamo un doppio round, che noi facciamo la gara sia sabato che domenica, ma in genere la gara si corre il sabato e non la domenica come può essere una gara di Formula 1 o altre gare. Quindi sono due particolarità da sottolineare. Ok, e quindi a volte si fa una gara sola, a volte c'è la doppia manche? Esattamente, questo è l'ottavo anno che si fa la Formula E. Ok. La prima è il quinto, i primi tre round l'abbiamo fatti con una tappa unica, quindi abbiamo corso il sabato, mentre dagli ultimi due anni, cioè l'anno scorso e quest'anno, è doppio round, quindi uno il sabato e uno la domenica. Ma c'è una griglia invertita per la seconda quando si fa o è la classica partenza? No, allora, questo venerdì, quindi venerdì 8, c'è uno shutdown. Sabato 9 ci saranno prove libere, qualifica e gara 1. Ok. Domenica 10, prove libere, qualifica e gara 2. Ah, quindi si fa una qualifica per la gara 1 e una qualifica per la gara 2. Esattamente. Ok. Cosa interessante. È interessante se doppia qualifica. Non c'è la griglia invertita, è come se non fosse successo niente nel sabato e nella domenica. Ok, ok, si riparte sempre da zero. Non sono due gare a tutti gli effetti, non solo nel punteggio. Assolutamente. Bello, bello. Un'utegare sprint. Allora, devi sapere, stavo dicendo che il buon Federico, il nostro Stig del simulatore, aveva avanzato una proposta la settimana scorsa, che secondo lui, le Formula 1, lui proponeva di farle tornare dei motori V10, col cambio manuale, senza controlli di trazione, senza elettronica, praticamente tornare a 40 anni fa. No, aspetta, posso aggiungere una cosa? Posso aggiungere una cosa? Adesso, visto che c'è la Formula E, perché il motore della Formula 1 deve essere equilibrido fatto in questa maniera? Che senso avrebbe? C'è la Formula E che sponsorizza il motore elettrico. Cioè, che senso c'ha di fare questa specie di accoppiata che non... Ma facci tornare a sentire quando passavano a 20.000 giri che tu mi metti i tappi nelle orecchie. Cioè, quello io voglio vedere, io quello voglio vedere. Il discorso di qui sopra. Diciamo che... Cioè, questa è la Formula E, la Formula E può essere quello che c'è la tecnologia ci offre. La Formula 1 è una tecnologa di un certo livello. Ma sicuramente vedere una Ferrari che gira adesso rispetto alla Ferrari del povero Schumacher di una ventina d'anni fa era sicuramente tanta roba. Con i V8 e i V10 che aspirati che facevano un bel po' di casino era assolutamente tanta roba. E anche qui, dove mi trovo adesso a Valle Lunga, l'abbiamo ospitati per fare dei test. Era uno spettacolo. Ovviamente uno spettacolo vederli. E sentirli anche. Eh, soprattutto sentire. Sì, salutiamo Pepitox e anche Latte di Mandorla 99, che anche lui è la prima volta che compare nella nostra chat. Esattamente. Quindi un saluto anche a lui. Ciao, ciao ragazzi. Ciao ragazzi. È un piacere avervi qui con noi in questa diretta in cui stiamo parlando di moto e di Formula e appunto stavo parlando dei Formula E. Beh, non so se... Io vorrei agganciare a questo punto al circuito. Perché a Roma si sente parlare già tantissimi anni del circuito di Formula 1 a Roma, dai tempi boh, forse di Alemanno addirittura? Beh sì, all'epoca c'era Alemanno che l'aveva sponsorizzata tramite Flammini, la Flammini gruppo che era l'ex... L'organizzatore della Superbike. Ciao Cici! L'ex organizzatore della Superbike. Infatti la Formula E ricalca quelle strade che Flammini aveva ipotizzato. Ma secondo te è ipotizzabile un futuro in Formula 1 per Roma? Dipende da una serie di fattori Riccardo, dipende da una serie di cose, tipo rumore. Cioè la Formula E viene fatta a... Buongiorno a tutti. Perché comunque non fa tanto casino, al di là della problematica dei parcheggi piuttosto che della viabilità, ma tu immagina i 20 Formula 1 che passano in mezzo... È vero, però è il problema che sia a Monaco, che sia in Cina, che sia in tutti i circuiti di cittadini tecnicamente. Sì sì, magari lì ci saranno anche un problema forse meno economico rispetto a ospitarlo a Roma. Oh, ok. Questo è un discorso... Però la prima cosa, sicuramente al di là del fatto economico, è il fatto del rumore. Rumore che comunque, anche se non sono più i V8 e i V10 di una volta, ma sono comunque motori differenti, la problematica comunque rimane dentro l'euro. Che poi magari con un sostanziale aiuto economico forse si riesce anche a bypassare questa cosa. Perché comunque poi c'ha un indotto, un gran premio di Formula 1. Tu pensa, solo io gestisco 200 persone come commissari di percorso, solo loro. 200 persone come commissari di percorso vengono dalla Sicilia, dalla Toscana, dall'Emilia Romagna, dal Mugello e dalla Puglia. Quindi ti dico, solo loro comunque devono mangiare, devono dormire, prendono la macchina, spendono benzina per poi un rimborso spese che fa sì che insomma è il gettone di presenza. Comunque tutta la Formula E c'ha qualcosa come 1500-1600 persone di staff, tra chi monta, chi smonta, gli operatori dei Manitou che sono i trattori, gli operatori delle ambulanze, degli antincendio, si porta dietro un carrozzone. Per cui genera un indotto, immagino anche dal pubblico, insomma la gente che viene da fuori, gli alberghi, i ristoranti. Oltre al lustro, perché comunque bene o male essere... Oltre a Daniele ha una grande somiglianza con Davide e Giuliano, non so se siete d'accordo. Sì, sì, è vero, vero, assolutamente. Ti manca a palla apposta e scriviamo anche, tra l'altro. Perché se tutto ciò, il caro Daniele, avremo occasione poi di... di avere l'ospite in altre occasioni, sì, di approfondire. Però, insomma, lui nasce con le due ruote, sostanzialmente. Ok. Per cui abbiamo tantissime storie da raccontare di piloti, di uomini, di situazioni che, ripeto, non mancherà occasione, non è questo il contesto giusto. Però, ecco, hai nominato un Davide e Giuliano, che è una persona che entrambi conosciamo bene, lui ancora meglio. Io avevo una domanda per Daniele. Il passaggio completo all'elettrico, che impressione c'è nell'ambiente? Cioè, c'è questa idea di prima o poi passare definitivamente all'elettrico, per quanto riguarda le quattro ruote, e se sei eventualmente favorevole o no? Perché, per esempio, ho letto una recente intervista di Orge Viegas, che è il... per quanto riguarda le due ruote, è il presidente della FIM, quindi della Federazione Internazionale, e lui parla addirittura nel 2030 di passaggio definitivo all'elettrico, che sembra assurdo dirlo oggi. Non sono le quattro ruote... Devo essere sincero? Devo essere sincero? Non credo. Non credo al passaggio definitivo entro il 2030 dell'elettrico. Ok. Perché comunque non c'è, almeno per quanto riguarda in Europa, la cultura dell'elettrico. Sì. Come sai, la cultura si protrae dieci anni in dieci anni. Quindi dentro il 2030, stiamo adesso al 2022, la vedo molto, ma molto difficile. E poi, oggettivamente, ci sono ancora, anche se sporadici, dei ragazzi che comunque hanno 16, 17, 15 anni, che gli piace ancora sentire il rumore dei motorini, piuttosto dei ricincontri, piuttosto dei 125, lo scarico aperto e cose del genere. Per fortuna. Sì, infatti, infatti. Beh, oggi parlare di questo sembra veramente assurdo, eppure c'è qualcuno che probabilmente ci sta pensando ora. Ma ti ripeto, come ho detto prima, fa parte di una percentuale limitata di scelte. Sicuramente, come ho detto all'inizio, io vengo, come diceva Riccardo, direttamente dalle due ruote, due tempi, quattro tempi, mani sporche di grasso. Quindi, mi piace tuttora, anche se sono un direttore di gara, mi piace tuttora mettere le mani sulla mia moto. Certo. Io ho un Kawasaki 900. Però, oggettivamente, perché ha una cosa che comunque dall'indotto a tutto il palinzesto, dai commissari, ai medici, ai paramedici, agli infermieri, diciamo che è una... Sono d'accordo con Pevito, la chat, scusatemi. Sì, sì. Dice, direi che non c'è paragone. Non c'è paragone, beh, certo. Certamente. Penso che siamo tutti d'accordo. Ovviamente. Poi ci sono delle questioni che vanno anche probabilmente al di là della semplice passione sportiva e quindi penso che sia più questo il motivo per cui se ne parli che poi realmente agli appassionati, credo che tutti quanti abbiamo conosciuto il motorsport e non con l'elettrico e quindi non credo che forse una piccolissima percentuale di persone possano essere attratte più dall'elettrico che insomma dal motore classico. Purtroppo però è il presente e il futuro. Esatto. No, di qua noi siamo costretti a parlarne perché dobbiamo Nessere un'ottica che probabilmente sarà, sicuramente sarà il futuro. pezzo di futuro perché al momento io mi tengo ancora ancora i quattro tempi piuttosto che i due tempi però è un pezzo di futuro che non va sicuramente ignorato. Certo, certo. Assolutamente. Assolutamente. Che poi io direi pure che già il passaggio dai due tempi ai quattro tempi oggettivamente è stato abbastanza traumatico perché è sparito tutto un settore perché chi si ricorda le gare con i due tempi di tanti anni fa si ricorda le nottate prima di un gran premio con i meccanici alle due o alle tre di notte con i motori accesi per fare le carburazioni perché probabilmente avevano smontato un pistone rimesso un pistone di nuovo, fatto un motore io ricordo che quando correvo in 125 nella Sport Production nel campione italiano noi, e comunque era un campione italiano non era un mondiale ma comunque voglio dire l'attenzione era molto alta alla preparazione per regolamenti c'era ancora grandissima attenzione perché tu ti dà fuori qualcosa di più nonostante i limiti che loro ti ponevano Esatto, perché comunque la Sport Production ricordiamo che sono modi di riazioni stradali le vecchie aprili ARS 125 che avevamo insomma in molti noi in un gran premio che partiva il giovedì diciamo il venerdì il venerdì si faceva col motore della gara successiva il venerdì sera i meccanici tiravano giù il banco si cambiava il pistone della gara precedente la domenica scorsa avevi i corso il venerdì si facevano le prove libere con quella configurazione di motore la sera si tirava giù per le due turni di qualifiche del sabato c'era un pistone nuovo che andava ruotato il venerdì notte fine di due turni di qualifiche un pistone nuovo per la gara della domenica il warm up il warm up che poi in realtà non si faceva per cui ci si ritrovava ogni sera a smontare un motore metterne su un altro che poi non è togliere il blocco e mettere il blocco si tratta di aprirlo cambiare pistone, fasce e tutto quanto e alle due di notte sentite qualche box o qualche tenda vi porterò qualche video c'è lì ho qualche video antichi sentite da una parte c'era una tenda di uno che russava e dall'altra parte una moto accesa a fare una carburazione con quell'odore acre che ti fungeva ecco bravo l'odore del due tempi soprattutto dei GP che avevano quelle benzine e quegli oli col fumo denso sembra olio di ricino un odore già quello è stato tanto traumatico perché si è sparita la carburazione a tutti gli effetti o perlomeno quella fatta di orecchio e occhio e vitarella della benzina e dell'aria è sparito quell'odore insomma e parliamo già ormai di vent'anni fa era perché le prime MotoGP iniziarono nel 2002 eh sì sono vent'anni adesso sì sì 2002 c'è stato un anno che ha fatto 500 e MotoGP esatto era il 2002 era il 2003 esatto che c'era il mondialito di Barros sì ultime quattro gare sì perché Barros correva il 500 poi siccome andava forte gli hanno dato esatto l'HRCV 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 sì esatto l'HRCV sì sì 211V era compagno di Capirossi esatto che già aveva al quattro tempi ma Capirossi no 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 Capirossi aveva credo che avesse credo che avesse il due tempi ma doveva andare in Ducati quindi gli hanno dato al due tempi e non gli hanno mai fatto al quattro tempi esatto solo a Barros hanno dato poi la ah giusto hai ragione e Barros vinse il mondialito di un punto su Rossi sì il team di Sidopont Barros aveva due vittorie un secondo e un terzo mentre Rossi un primo e tre terzi quindi per un punto Alex Barros è campione del mondialito è una bella pizza è una bella pizza esatto mi sembra che Riccardo aveva la tuta di quell'anno di Capirossi no? io sì se volete ve la posso anche far vedere cioè avevo la tuta di Capirossi poi vabbè le grafiche negli anni sono un pochino cambiate e avevo esattamente quella tuta sì perché era bianco bianco ma me la vado a prendere va? va bene dicevo avendo difficoltà economiche Rossi e Barros li sono giocati la pizza perché a uno dei due serviva che gliela offrisse l'altro quindi giustamente Barros si è ma cosa è che vedesse quella tuta che c'è adesso Riccardo gli sta ancora perché non lo so sì tre volte mi sta questa tuta interessante osservazione direi sentiamo l'audio ma dai dai vogliamo siamo qui ad attendere questo fantastico beh questa qui adesso non c'è più scritto Loris perché ovviamente c'erano i miei sponsor ma vabbè non si chiudeva neanche più la zip pensa un po' come sta messa allora questa qua con qualche annetto un pochino vissuta bene bene direi il motoclub bravo e poi questa la vogliamo raccontare la storia di questa patch dai ci siamo è stato un adesivo un giorno feci un podio a oddio lo sai forse invece era l'altra tuta Mugello eh ma non era questa tuta comunque feci un podio al Mugello si era staccata la patch del motoclub prima di salire stavo salendo le scale per andare sul podio arriva lui Daniele con un adesivo poi me lo appiccica qua sul petto non ricordo adesso e sinistra quindi sono tutte le foto ecco un bel adesivo del gente ma era un adesivo sono avviato poi ho fatto sì l'ho stacchiato e l'abbiamo appoggiato ok ok perché il presidente qua brandizza tutto ovviamente eh beh giustamente Fefo e ci dicono dalla regia se puoi abbassare un minimo il volume della tv mi ah ok ok si 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 intanto che aspettiamo il nostro eccolo qui io mi torno ah la metti dietro come come sfondo me la metto dietro se ci riesci si ah 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 impossibile ci provo vai voi andate avanti che sembra che se no vai vai no eh ragazzi siamo sul insomma sul discorso formula e mi sembra che abbiamo eh non so se abbiamo detto abbastanza non so se vogliamo far vedere abbiamo la possibilità di far vedere il circuito come si sviluppa una foto del circuito un layout eh eh io ce l'ho sul cellulare forse magari Marco non so se ci abbiamo su youtube guarda purtroppo non ho io purtroppo non stando in regia eh non so che oggi con i problemi della con i problemi della diretta dovuti alle varie novità non abbiamo avuto molto tempo di di preparare di preparare video quindi al momento vediamo ci abbiamo però sì sì beh beh comunque il circuito passa da via delle tre fontane e vediamo lo vediamo attraversa attraversa il colosseo quadrato scende giù da palombini verso l'obelisco dell'euro il circuito è uno dei più veloci del mondo mi sentite? sì sì ti sentiamo ma il circuito è lo stesso degli anni passati o qualcosa cambia sempre? allora è cambiato due anni fa è cambiato perché l'hanno fatto ancora più lungo e affinché tutti i piloti potessero utilizzare la buffer zone che cos'è la buffer zone? la buffer zone è un un pezzo di pista in cui i piloti possono passarci sopra e hanno una specie tipo super mario kart una specie di booster bravissimo per far sì che da lì insomma a poco possono sfruttare dei kilowatt in più ok quindi loro passano sopra queste zone come se avessero una ricarica della macchina bravissimo bravissimo ovviamente non per tutta la gara ce l'hanno scaglionati che ne so mi pare una volta una volta a gara quindi una volta nella qualifica una volta a gara una volta a sessione ok quindi possono sfruttarlo quando vogliono? esatto però una volta una volta quindi spesso useranno per sorpassare immagino tendenzialmente sì oppure quando stanno tirando per il giro veloce magari passano è un po' come a gran turismo quando si guidano le super formula mi sembra che più o meno sia sì c'è un livello del sorpasso esatto esatto sì sulla sulla formula E non so se abbiamo altre curiosità Daniele che o se l'unica cosa che mi viene a dirti dato che comunque li gestisco io in primis il fatto che un evento del genere un evento mondiale del genere colga di tantissime persone che ci lavorano qualcosa come 200 commissari sparsi in tutta Italia è che da tutta Italia ti ripeto dalla Sicilia dalla Calabria dalla Campania dalla Toscana dall'Emilia Romagna e dal Mugello vengono a vedere e a lavorare in un evento del genere percependo comunque il ricorso di spese questa pioggia la possibile il possibile sole il possibile evento con tutti gli utenti e per i possibili immaginabili è una cosa che comunque inorgoglisce sia la nostra comunque la nostra città che comunque dà comunque una pubblicità non indifferente e comunque inorgoglisce insomma anche questa sezione di Vallelunga che è la parte in causa insomma della partecipazione di questo evento dell'organizzazione di questo evento certamente certamente beh quindi insomma credo che nel corso degli anni ci siano stati comunque degli sviluppi o insomma il personale è aumentato nel corso degli anni le persone che sicuramente sì rispetto a tre anni fa siamo aumentati perché l'anno scorso come diceva giustamente stavamo dicendo giustamente prima il circuito è cambiato ed è aumentato quindi aumentando il circuito abbiamo aumentato anche le postazioni dove ci sono tutti i commissari di percorso e quindi abbiamo avuto più bisogno di più personale due anni fa erano 180 commissari quest'anno stiamo sfondando le 200 unità per ovvie ragioni una buona parte sono del circuito di varilunga di commissari per altri ci vengono forniti e ci aiutano altri commissari di percorso di altre regioni perfetto perfetto credo che abbiamo qualche problema con il collegamento di Riccardo al momento che non stiamo vedendo il momento non lo vediamo comunque speriamo la regia ci sta provando in tutti i modi a ripristinare il più breve tempo possibile non so tu Daniele sapevo che verso quest'ora eri impegnato vi volevo salutare perché finivo di fare la gestione per quanto riguarda pass furgoni e cose del genere andavo all'Euro direttamente a mettere a posto il personale perfetto ti sentiamo non ti vediamo al momento ma ti sentiamo non mi vedete si 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 ti vediamo e sentiamo ok e comunque Daniele ci stava salutando Riccardo non so se stavi sentendo grazie intanto di essere stato qui con noi grazie a voi di averci un pochino aperto la strada sul mondo della Formula E poi magari valutiamo se ritrovarci anche a settimana prossima per vedere un attimino come è andata la gara insomma non mancherà occasione sperando che il tempo ci assista certo fondamentale direi senti una domanda molto veloce ma fanno ancora al pin stop il cambio dell'auto intera? no perché da due anni a sta parte le batterie possono vengono utilizzate e possono durare fino a tutta la gara una volta tre anni fa c'era il cambio auto la macchina si lanciava la macchina e si andava su quell'altra perché le batterie non riuscivano però c'era un minimo di ultima domanda che poi ti lascia andare è che hai da fare e tu sai bene come funziona quella cosa del booster cioè io ricordo che c'è la gara e ci sono alcune curve che hai la possibilità di fare due percorsi una curva e cosa succede esattamente se prendi allora praticamente stavo dicendo prima forse non è ricollegato e all'altezza dell'obelisco dell'Eur probabilmente c'è questa zona dove i piloti possono andare massimo una volta a sessione quindi prove libere qualifiche gara dove il pilota X passa su questa questo booster zone e ha per un X tempo della velocità in più quindi lo puoi utilizzare per fare che ne so le prove libere o la qualifica per dare quello spunto in più in gara se stai in contatto con altri piloti per sorpassarli però l'importante è che lo puoi fare solo una volta molto alla Mario Kart come cosa esatto lo stavamo dicendo stavamo dicendo alla Mario Kart esatto benissimo va bene Daniele allora ti ringraziamo grazie a voi dell'invito grazie a voi ciao grazie alla prossima allora a presto ciao ciao